Per i ministri e il premier Conte, l'azione del governo italiano ha battuto il Covid. Peccato che non siano dello stesso avviso gli italiani e i ricercatori inglesi sudati di Oxford. Allora, sentite un po' che cosa dicono i ministri italiani e il premier Conte riguardo al successo delle azioni che il governo ha attuato contro il Covid. Senti un po'. Ormai è assodato che in tutto il mondo esiste un modello Italia nella gestione della crisi del coronavirus. Stiamo raccogliendo il plauso dal mondo. In questo momento tutto il mondo ci guarda e io ho una profonda convinzione e vorrei condividerla con voi. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno, ci prenderanno come esempio. Risultato eccezionale. Ringrazio il commissario Arcuri per il grande lavoro che ha fatto. Ringrazio il commissario Arcuri per il grande lavoro che ha fatto. Peccato che questo grafico che vi mostro sviluppato da ricercatori inglesi su dati di Oxford e del Fondo Monetario Internazionale dimostrano purtroppo il contrario, esattamente quello che tutti gli italiani sanno perfettamente. Vedete? Più un paese si posiziona in basso più grave è stata la sua recessione economica. Allo stesso modo nel grafico più un paese si colloca verso destra più il suo numero di morti per milioni di abitanti è stato elevato. Guardate un po' dove si trova l'Italia? Beh purtroppo per noi in basso a destra. Beh più in basso di tutti, quasi. Gli unici che sono andati peggio sono gli argentini, che come sapete sono in un default continuo e hanno subito un lockdown perenne. Ora le cose vanno dette fino in fondo chiaramente. I dati relativi alla mortalità italiana sono dovuti probabilmente anche al fatto che l'Italia è stato il primo paese occidentale a essere vittima del coronavirus. E quindi anche a causa della mancanza di informazioni gravissima da parte del regime comunista cinese che ha nascosto la gravità della situazione, l'Italia ha inizialmente pagato un pegno molto più alto rispetto ad altri paesi. Ma pur concedendo queste doverose attenuanti è evidente che la differenza con altri paesi più trasparenti e democratici rispetto alla Cina dove i dati sono evidentemente falsati è abbastanza imbarazzante. Ma il disastro economico era abbastanza prevedibile. Sì perché se al posto che dare un degno contributo all'attività che hai deciso di chiudere, come hanno fatto in altri paesi per esempio, decidi di sperperare i tuoi soldi in banchi a rotelle e siringhe farlocche, è evidente che qualcosa non funziona. Vi ricordo che in questi dieci mesi il governo Conte ha speso 140 miliardi degli italiani a debito per poi vedere bar, ristoranti, commercianti, molte partite IVA chiudere dolorosamente. Insomma amici, lasciamo stare le supercazzole del governo. Ce l'hanno raccontata per mesi e mesi e mesi, ma le ricerche basate su dati di Oxford e del Fondo Monetario Internazionale sono eloquenti. Il governo PD 5 Stelle ha buttato via i soldi degli italiani e non ha dato delle degne risposte all'enorme problema della crisi sanitaria ed economica dovute al Covid.